mettersi oggi dopo cent'anni di guerra a dire chi ha ragione chi ha torto fra israele e i palestinesi e come andare a cercare se è nato prima l'uovo la gallina è ovvio che se ci fermiamo all'istantanea degli ultimi sei mesi con il massacro i crimini di guerra e netanyahu e del suo esercito ai danni della popolazione di gaza spacciati per una lotta al terrorismo e una guerra ad hamas a straragione i palestinesi a stratorto israele quello che sta avvenendo a gaza è come se noi per catturare messina denaro avessimo raso al suolo la provincia di trapani perché così prima o poi prendiamo anche lui anzi è peggio perché mentre messina denaro non si è mai mosso dalla provincia di trapani i capi di hamas non sono a gaza sono ben nascosti nelle loro ville nelle loro regge in catar in siria probabilmente in libano in turchia il 7 ottobre eravamo tutti solidali con israele quindi se c'è antisemitismo oggi il primo colpevole si chiama netanyahu perché hamas era riuscita nell'impresa di far tornare simpatici gli israeliani e netanyahu è riuscito nell'impresa di farli tornare antipatici cioè qui ci sono 35 mila morti in sei mesi su due milioni e mezzo di abitanti quasi tutti civili in ucraina in due anni e due mesi su 40 milioni di abitanti ci sono stati 10 mila civili morti secondo l'onu vi pare normale che putin abbia un mandato di cattura internazionale sia pieno di sanzioni così mentre netanyahu non ha nemmeno un mandatino così di comparizione non li abbiamo negato nemmeno la gazzosa poi capisco le manifestazioni capisco la rabbia capisco le proteste universitarie le capisco perché ai crimini di guerra di netanyahu non segue nessuna sanzione quindi la rabbia è perfettamente comprensibile però oltre alla rabbia bisognerebbe studiare anche la storia per capire come siamo arrivati fin qui e come se ne esce terrorismo non si combatte con gli eserciti è esattamente quello che sta facendo netanyahu adesso sta reclutando gratuitamente per amassi i terroristi di domani che è un ragazzino che su che sopravvive a quell'inferno e che vede morire suo fratello il suo amichetto sua madre suo padre suo nonno sua nonna suo zio eccetera che futuro ha nella testa che prospettive ha nella vita se non quello di imbracciare un mitra o mettersi un cinturone esplosivo ci guadagna ci guadagnano gli estremisti e ci guadagnano le industrie delle armi che ovviamente applicano scientificamente e io le capisco dal loro punto di vista il titolo di quel grande film di alberto sordi che finché c'è guerra c'è speranza